gentili telespettatori buona giornata renzo bossi querela il quotidiano la repubblica perché il fratello di renzo bossi è stato indagato per aver indebitamente preso il reddito di cittadinanza oltre 12 mila euro in diversi anni circa 250 280 euro al mese e non poteva e non doveva prenderlo quindi è indagato per truffa allo stato ma l'altro quello che veniva chiamato il trota ve lo ricordate il trota dice io non ho mai fatto alcuna richiesta per avere il reddito di cittadinanza e quindi non ho mai ricevuto un euro di sostegno è una cosa che non mi riguarda visto che lavoro da anni con le mie aziende renzo bossi figlio del fondatore della lega umberto smentisce quanto apparso su repubblica dove il suo nome viene accostato a quello del fratello riccardo finito sotto inchiesta per presunta truffa relativa al reddito di cittadinanza che avrebbe indebitamente percepito per anni anche il figlio renzo si legge su repubblica il giornale di molinari avrebbe usufruito del reddito per alcuni mesi renzo bossi non è coinvolto in nessuna indagine sul reddito di cittadinanza ma dice appunto renzo bossi a un'agenzia di stampa io non ho rapporti con mio fratello riccardo da anni e sono il primo a dire che la giustizia deve fare il suo corso in caso di reati commessi da chiunque anche io nel 2012 ho iniziato un percorso giudiziario che poi è finito in nulla con una soluzione dice riguardo al procedimento affrontato per le accuse di appropriazione in debita quando ero in consiglio regionale in lombardia vorrei aggiungere però due considerazioni dice la prima è che ci troviamo di fronte a un articolo diffamatorio che guarda caso viene pubblicato alla vigilia di un voto importante come quello dell'abruzzo tirandomi dentro a una vicenda che non mi riguarda affatto motivo per cui ho già dato mandato al mio legale di procedere per diffamazione nei confronti della testata e dei giornalisti che hanno scritto quelle falsità inoltre conclude il reddito di cittadinanza è una misura che non ho mai condiviso ma devo dire che averla tolta ha pure messo in difficoltà tanti comuni che ora si trovano a fronteggiare situazioni di disagio di molti cittadini capita spesso che giornali facciano degli articoli dove c'è tra virgolette quello che ha detto tizio caio sempronio e molte volte si è scoperto che questi virgolettati sono erano inventati sono inventati poi si scopre che interviste fasù di interviste fasulle addirittura hanno alcuni giornali prendono pezzi di intervista e costruiscono un'intervista completamente inesistente abbiamo visto notizie completamente false ad esempio non lo so crollo di fratelli d'italia nei sondaggi poi tu apri apri il sondaggio su alcuni giornali e vedi che non c'è nessun crollo perché molte volte vengono messi dei titoli che servono per accalappiare il lettore come funziona spesso voi trovate un titolone dite cos'è successo quindi ti fanno dei titoli che ti inducono ad aprire l'articolo perché quando apri l'articolo si aprono le pubblicità e quelle pubblicità pagano quel giornale lì quindi tu vedi un titolo accattivante strano curioso apri l'articolo appena lo apri vedi l'articolo con un titolo diverso che è il vero titolo dell'articolo quindi il titolo che c'è sulla pagina internet di quel giornale è un titolo molte volte fasullo che serve solo per farti aprire poi il vero articolo che ha un altro titolo quindi sono due titoli diversi il titolo il titolo che vedete inizialmente poi quando apri c'è un altro titolo non so se avete mai avete mai notato in modo che poi quel giornale lì non possa essere accusato di aver di aver messo un titolo falso perché ci sono due titoli quello che ti fa aprire che poi sparisce e poi c'è un altro titolo che non può essere poi accusato di diffamazione perché è scritto in un altro modo a parte questo tecniche che utilizzano i giornali online perché sul cartaceo non lo puoi fare online tutte queste cose avvengono online i famosi clickbait cioè io ti faccio vedere un'immagine ti scrivo un titolo di un certo tipo così tu sei invogliato ad aprire quella pagina così si aprono le pubblicità e automaticamente pagano quel quel giornale viene fatto questo clickbait ti inducono ad aprire l'articolo ti stanno prendendo in giro perché serve che tu apra quell'articolo per pagare le pubblicità perché una volta che si è aperto l'articolo e sono apparse le pubblicità quegli inserzionisti pagano in base a quanti aprono l'articolo pagano una certa somma bene poi ci sono titoli falsi perché ad esempio se voi dite che uno dei due figli di Renzi è di Renzi scusate di Bossi è indagato per aver truffato secondo gli inquirenti con reddito di cittadinanza poi è una notizia che hanno poi raccontato tutti i giornali e allora tu come fai ad avere un qualcosa in più degli altri giornali gli butti dentro anche l'altro fratello che non ha fatto niente allora visto che poi sei l'unico giornale che parla anche dell'altro fratello la gente è invogliata ad aprire quell'articolo per capire che cos'è successo anche con l'altro fratello cosa che poi abbiamo visto è diffamazione o meglio quando si accusa una persona di un crimine di un reato di aver fatto qualcosa di illegale si passa dalla diffamazione alla calunnia quella è calunniare una persona ecco se uno di voi dovesse finire sul giornale che ho scritto lui ha rubato al supermercato e quella è calunnia non è diffamazione non è diffamazione quella si chiama calunnia la diffamazione quando dite per esempio quella persona io l'ho vista ieri alla manifestazione delle femministe e non è vero quella è diffamazione non per la manifestazione del femministe perché state raccontando una balla però se state raccontando che che quella persona ha rubato con il reddito di cittadinanza allora quella è calunnia poi aggravata dal mezzo stampa quindi c'è differenza tra diffamazione e calunnia diffamazione quando così racconti cose non vere calunnia è quando accusi una persona di un crimine che non è vero arrivederci a tutti e grazie